Buonasera, eccoci in onda e allora speciale del telegiornale della Sette per la diretta consueta di ogni pomeriggio, la conferenza stampa di aggiornamento sulla diffusione del coronavirus. Tutto pronto, mancano meno di tre minuti e come sempre alle 18 sentiremo chi, sapete bene, nei giorni scorsi il capo della protezione civile ha avuto un leggero attacco di influenza, poi passato, non è risultato negativo al tampone, ma vedremo insomma se ci sarà lui o ci sarà anche, abbiamo visto, intervenuto nei giorni scorsi il commissario straordinario nominato dal governo Domenico Arcuri, ma insomma tra poco vedremo chi si presenterà e cosa ci racconterà a proposito dei dati. Nel frattempo vi possiamo dire che adesso non si vede ma sta parlando anche in questo caso come tutti i pomeriggi, sappiamo bene la regione più colpita è la Lombardia, vedremo anche i dati specifici della Lombardia, ma adesso è in diretta e sta parlando l'assessore alla salute, abbiamo imparato a conoscere anche lui Giulio Gallera, sentiremo poi magari un estratto di quello che sta raccontando, fino adesso ha aggiornato sullo stato delle cose in quella regione, raccontando anche sull'iniziativa della regione l'aumento dei tamponi. Sentiremo anche Gallera, vi dico anche che nel circuito internazionale sta passando in questo momento la conferenza stampa del governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, perché? Perché ha annunciato innanzitutto e tra l'altro ecco adesso in primo piano e lo possiamo vedere, ma ecco, allora questo ci dice che anche negli Stati Uniti quelle che sono diventate ormai le regole di ingaggio e cioè le conferenze stampa con tutti i presenti a distanza di sicurezza, dicevo Cuomo sta dicendo innanzitutto ha annunciato che saranno rinviate le primarie, le primarie delle presidenziali del Partito Democratico in vista del voto di novembre, allora erano previste per il 28 aprile, slittano le primarie al 23 giugno data, ha detto Cuomo, fissata per ora ma che rimane provvisoria. Perché tra l'altro New York e perché Stati Uniti? Poco fa si è saputo che il presidente Trump sta valutando la quarantena per gli stati di New York, New Jersey e Connecticut per combattere l'emergenza corona, lo ha detto appunto Trump sottolineando che per ora non è allo studio la possibilità di chiudere la metropolitana e sappiamo di New York quanto questo sia vitale vitale per New York, città importante per gli Stati Uniti, città importante per l'intero mondo. E allora vi dicevo questo è quello che sta succedendo in questo momento, adesso andiamo sull'assegnazione 1, la regione Lombardia, perché come vedete da lì arrivano i dati aggiornati e li leggiamo insieme a voi per la prima volta anche noi, i dati di oggi, per quanto riguarda le province della Lombardia, poi vi dicevo arriveranno quelli complessivi dalla protezione civile, ma questi sono i dati che in arrivo dalla regione Lombardia, vedete Bergamo, Brescia, Como e allora più o meno le valutazioni che dobbiamo fare rispetto per esempio alla provincia di Bergamo sale di 289 il numero delle vittime e però va segnalato che ieri erano 602 per essere esatti e quindi in realtà c'è un elemento di speranza, diciamolo chiaramente, stanno iniziando arrivare quei indicatori, meno che da un po' aspettiamo con speranza e fiducia e questo riguarda sia la provincia di Bergamo, ora è andato via, ma se non mi sono appuntato male riguarda anche l'area metropolitana di Milano e cala anche l'Odi, mentre Brescia siamo più o meno stabili sentiamo un passaggio di Gallera Finalmente ci sia stata chiarezza su definitiva, noi non facciamo i tapponi a tappeto, ma a tappeto ci prendiamo cura o vogliamo prenderci cura di tutti coloro che hanno delle situazioni critiche di difficoltà. Le prime settimane sono state uno tsunami, è chiaro che questa è una patologia acuta e non è una patologia cronica, tutte le persone che sono a casa e che hanno un problema tendenzialmente o, voglio dire, come si è detto il coronavirus è una patologia che molti gestiscono al proprio domicilio senza grossi problemi, probabilmente due terzi di ciò che noi vediamo oggi sono persone che al proprio domicilio con una piccola febbre, con un po' di raffreddore, senza grandi cose, sviluppano il coronavirus e lo vivono così ma molte altre sono persone che hanno bisogno di un ricovero o hanno bisogno di essere monitorate perché rischiano di avere bisogno di un ricovero, perché è una patologia acuta è chiaro che il primo bisogno che abbiamo dovuto soddisfare era quello di ampliare il più possibile per questo motivo l'offerto ospedaliera, perché le persone in crisi avevano bisogno di una subintensiva avevano bisogno di un'intensiva, avevano bisogno di un reparto di pneumologia e l'onda è stata così ampia che noi abbiamo fatto sforzi titanici ma chiaramente siamo riusciti ad arrivare fino con quelle immagini che voi avete visto siamo passati da 724 a 1600 posti di terapia intensiva con un aumento del 110%, oggi dopo le prime settimane e dobbiamo rafforzare anche la rete territoriale abbiamo già iniziato a farlo quell'immagine della televisione russa sono il segno di un lavoro che è già iniziato da alcuni giorni in maniera strutturata che andiamo assolutamente a intensificare aumenteremo queste degenze di sorveglianza dove riuscire a prenderci carico e cura anche di quelle persone che oggi non riescono a trovare un posto negli ospedali che sono assolutamente sovraffollati ma fortunatamente non hanno ancora bisogno di una struttura ospedaliera quindi intensifichiamo questo nostro lavoro nell'arco di pochi giorni e verremo qua a raccontarvelo perché questi momenti di comunicazione servono anche a descrivervi il grande sforzo che Regione Lombardia sta facendo vi racconteremo dopo le prime settimane come ci stiamo organizzando per essere sempre più presenti sul territorio al vostro servizio Buona serata Allora questo era è così vediamo anche i numeri per aiutare la Regione Lombardia questo era Giulio Gallera dicevamo Assessore alla Salute della Lombardia abbiamo visto che ci sono i preparativi per la conferenza stampa anche dalla protezione civile stanno preparando quindi ci siamo arriverà tra poco siamo in ritardo di poco meno di 5 minuti siamo in attesa vi dicevo anche della conferenza stampa al momento si sta tenendo in questo momento la conferenza stampa del governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo dagli Stati Uniti arriva un aggiornamento tra l'altro è la CNN se riusciamo a metterla anche quella in condivisione vi possiamo far vedere ma intanto ve li leggo io perché la CNN dà i numeri abbiamo già saputo dai telegiornali anche quelli di pranzo che ormai è il paese più colpito con vi dicevo la CNN ha diffuso questi numeri ci sono 111.115 casi di coronavirus in America le vittime sono salite a 1842 appunto questo è quello che ha riferito poco fa la CNN vi do un altro aggiornamento perché è uscita l'agenzia che c'è stato un incontro in videoconferenza del Partito Democratico ha partecipato anche il segretario Nicola Zingaretti questo lo diciamo più che per darvi aggiornamento del senso di quello che è successo in questa riunione sostegno a Conte, al governo eccetera ma soprattutto perché ci dicono dal Partito Democratico fanno sapere dal Partito Democratico che ha partecipato anche appunto il segretario sapete che è risultato ormai da un po' positivo al coronavirus evidentemente le sue condizioni naturalmente aveva fatto già arrivare un video nel quale insomma era intervenuto sulle questioni politiche ma era un qualche giorno che non si vedeva Zingaretti ha partecipato a questa videoconferenza quindi evidentemente insomma continua a lavorare ad essere partecipe delle vicende del Partito e quindi impegnato con una salute evidentemente insomma affrontando il virus ma che gli consente comunque di essere presente anche a riunioni di aggiornamento e dicevo un po' di sostegno vi dicevo siamo leggermente in ritardo con la conferenza stampa dalla protezione civile ma allora a questo punto sentiamo velocemente un passaggio se ci arrivano aggiornamenti dagli Stati Uniti appunto dicevo Andrew Cuomo è sul rinvio delle primarie del Partito Democratico questo è l'anno delle elezioni presidenziali un anno importantissimo sentiamo se riusciamo a intercettare anche il significato della risposta di Cuomo allora anche Cuomo lo state sentendo sui test da fare sulla situazione difficile nello Stato di New York in particolare vi abbiamo raccontato di Trump che per ora dice di non voler chiudere la metropolitana di New York ma insomma è sceso in campo lo abbiamo raccontato anche questo lo avete sentito, lo sapete letto e sentito dell'impegno anche economico e anche con presenze militari che ha deciso il Presidente Trump con una inversione netta della politica rispetto alla gestione dell'emergenza data dal coronavirus vi dicevo della CNN anche in questo caso vi faccio vedere che si parla dell'emergenza e di quello che sta succedendo negli Stati Uniti in questo caso siamo con il sindaco di Boston in collegamento che ci racconta di quello che sta succedendo nello Stato del Massachusetts dove come vedete insomma anche lì più 800 casi e ci sono 35 vittime e allora questo è quello che sta succedendo a questo punto io direi visto che dalla protezione civile ancora lo mettiamo in onda ma insomma la sedia oggi unica vedremo se parteciperà anche come Stato spesso parteciperanno anche altri tecnici che ci spiegano a proposito dei dati che verranno diffusi cosa significano la diffusione dei tamponi sapete quanto è importante poi il rapporto ma insomma lo sentiremo tra poco e vedremo chi parteciperà io farei adesso lo dico alla regia il breve break pubblicitario lo spendiamo subito così poi se ascoltiamo tutta la conferenza stampa e le eventuali domande dei giornalisti allora pubblicità ci rivediamo tra poco con lo speciale per seguire la conferenza stampa della protezione civile purtroppo non abbiamo l'interprete dell'IS andiamo subito da Borrelli capo della protezione civile però sulla pagina della facebook dell'ente nazionale sordi sarà possibile seguire la traduzione di questa comunicazione stampa voglio ringraziare l'ente nazionale sordi per il prezioso contributo che giornalmente danno alle nostre attività e ci permettono di comunicare anche con una parte importante della nostra comunità partiamo dal bilancio di oggi il totale delle persone attualmente positive è di 70.065 persone con un incremento di 3.651 pazienti rispetto a ieri di questi 3.856 sono in terapia intensiva 26.676 sono ricoverati con sintomi tutti gli altri sono negli altri 39.533 pari al 56% del totale sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi purtroppo oggi registriamo 889 nuovi deceduti e il totale dei guariti è di 12.384 rispetto a ieri vi è un incremento di 1.434 persone guarite in più per quanto riguarda le attività coordinate dalla protezione civile nazionale in particolar modo la centrale remota di soccorso sanitario la CROSS ad oggi ha trasferito 82 pazienti dalla regione Lombardia 7 in più rispetto a ieri il totale dei pazienti trasferiti sono 42 pazienti covid e 40 non covid e stamattina voglio sottolineare c'è stato un trasferimento di massa ben 6 pazienti con un volo dell'aviazione tedesca che ha portato 6 pazienti che erano in rianimazione dagli ospedali di Bergamo al reparto di rianimazione dell'ospedale di Colonio voglio ringraziare la Repubblica tedesca per averci messo a disposizione un numero cospicui di posti nella rianimazione in totale abbiamo 12 persone che sono in rianimazione in Germania e questo è segno di una grande solidarietà che il popolo tedesco il governo tedesco sta mettendo a disposizione il nostro paese per quanto riguarda le forze in campo vi fornisco i dati di oggi in particolare i dati del nostro volontariato di protezione civile siamo arrivati a 11.636 volontari che sono impegnati nelle attività di assistenza alla popolazione un numero notevole è un numero che cresce di giorno in giorno questo per evidenziare quella che è la grande solidarietà dei nostri concittadini dei cittadini organizzati che fanno parte delle associazioni di volontariato abbiamo anche il totale delle tende di pretriage sono 772 all'esterno degli ospedali e 151 sono le tende di pretriage negli istituti penitenziari un altro dato che vi voglio dare è il dato delle donazioni raccolte l'aggiornamento odierno delle donazioni raccolte dal dipartimento della protezione civile oggi abbiamo raccolto sul conto corrente intestato al dipartimento 61 milioni di euro oltre 61 milioni di euro e ne abbiamo già spesi 7 milioni 325 mila euro per l'acquisto di mascherine chirurgiche e una parte di questi 7 milioni di euro sono stati destinati all'acquisto di 465 ventilatori polmonari da parte del commissario Arcuri ultimo dato che vi voglio comunicare il dato della call che chiuderà questa sera alle 20 per infermieri anche questa ha avuto una risposta notevole abbiamo ricevuto fino a poco fa oltre 7.714 domande e quindi questa sera contiamo di avere un numero più o meno simile a quelle che erano le disponibilità dei medici nella call precedente questo personale andrà a rinforzare il personale sanitario delle regioni che sono più in sofferenza e che ne hanno fatto richiesta da domani invieremo questo personale faremo la selezione la destinazione e è previsto un invio di personale sanitario di medici e di infermieri il primo di aprile per le regioni che ne hanno fatto richiesta io mi fermerei qui diamo spazio alle vostre domande buonasera Sabene del Tg2 tanto bentornato grazie volevo chiederle se possiamo parlare di Focolai per quanto riguarda la Calabria con 5 comuni sotto la lente di ingrandimento a quanto sembra della regione parlo di Melito Montebello insomma ce ne sono diversi e anche in Veneto invece quindi due parti opposte di fatto sembra che a Cortina siano raddoppiati in qualche modo i contagi una cinquantina ha messo un po' in allarme il sindaco e Verona che tipo di caso è adesso? Allora io su questi dati epidemiologici come vedete accanto a me non ci sono gli esperti l'istituto superiore della sanità due volte la settimana fa un punto sull'aspetto epidemiologico quindi preferirei che fosse l'istituto superiore di sanità a darvi questa questa risposta non avendo gli esperti io non voglio pronunciarmi preferisco non pronunciarmi buonasera intanto bentornato grazie sono Cecconi del Tg3 molti in queste ore vedendo continuare questa messe di deceduti chiedono ma allora perché siamo chiusi in casa a che cosa serve stare chiusi in casa voi avete diciamo dentro le vostre tabelle o vi siete fatti un'idea di quanti sarebbero i morti e i contagiati quanti sarebbero stati se il 10 marzo non fossero state prese queste queste misure così drastiche cioè c'è modo di dire alle persone facendo così abbiamo salvato un tot numero di vite allora sicuramente qualora non fossero state adottate le misure così drastiche noi avremmo ben altri numeri e registreremo le difficoltà delle nostre strutture sanitarie che sono in situazione critica in alcune regioni in una situazione ben più drammatica su questa domanda nello specifico anche qui vorrei rimandare gli esperti perché riguarda scenari epidemiologici che è bene che commentino gli esperti per quello che è dato conoscere a me noi ci saremmo trovati in una situazione insostenibile voglio anche ricordare che nel resto del mondo in molti in quasi tutti i paesi le misure che noi abbiamo adottato sono prese ad esempio e vengono imitate e vengono replicate nell'azione di contrasto al virus alve buonasera veronica di benedetto montaccini di deposte internazionale tp.it bentornato grazie l'ho fatta anche i giorni scorsi questa domanda la ripropongo a lei perché sono proprio i lettori cittadini che ci stanno chiedendo delle risposte univoche e chiare cioè lei parlava di come è stato importante una chiusura totale per esempio negli undici comuni del Lodigiano Codogno questi comuni qua perché invece non sono stati chiusi i comuni come Alzano Lombardo Nembro e altri comuni del genere per cui l'Istituto Superiore di Sanità invece aveva raccomandato una chiusura totale e aggiungo oggi ci sono altri comuni dove è prevista una chiusura del genere come a Fondi nel Lazio perché non è stata ascoltata quella nota dell'Istituto Superiore di Sanità che chiedeva una chiusura già il 2 marzo scorso grazie mille allora le misure che sono state adottate sono state adottate dal governo in osseguo a quelli che sono i principi di proporzionalità e adeguatezza nel corso del tempo sono state adottate sempre misure più stringenti e quindi anche nell'area della Bergamasca così come nel resto d'Italia le misure sono andate sempre più in asprendosi sotto questo profilo io credo che sia stata una scelta doverosa anche misurando quelli che sono poi gli sforzi dell'organizzazione da mettere in campo per quanto riguarda la macchina dei controlli e delle altre cose credo che le misure che sono state adottate siano state le misure più appropriate in quel momento storico nel quale si poneva la decisione la Lombardia però è diventata poi diciamo zona arancione cioè è ben diverso da una zona rossa dove è militarizzata non ci sono le attività aperte i cittadini non entrano e non escono voglio chiederle insomma se per esempio c'è stato in quel caso la pressione proprio di aziende di attività economiche per lasciare aperta quella zona a me non si spiega a me questo non risulta risulta che la decisione sia stata presa sulla base di quelle che erano le anche esigenze organizzative di controllo di omogeneizzazione delle misure a livello nazionale e tra le regioni interessate sono Navarra di Aska News anch'io mi unisco ben tornato dai colleghi chiaramente e le faccio una domanda che è un po' discosta da quello che hanno fatto i colleghi fino ad ora e riguarda alcune dichiarazioni che sono state rese ieri da diversi esponenti politici mi si permetta un po' di pressa a poco anche dal responsabile del centro-sinistra Renzi diceva bisogna far ripartire l'Italia dopo il 3 aprile bisogna far ripartire l'Italia individuando una data individuando una scadenza in questo senso anche se lei è appena tornato dopo un paio di giorni di assenza qualche giorno di assenza le volevo chiedere se appunto in qualche modo ha un senso questa richiesta che viene da diverse parti del mondo politico se invece se ancora giorno dopo giorno grazie no io quello che credo è che ci debba essere un'attenta riflessione perché il paese è fermo e quindi l'esigenza comunque di assicurare un minimo di operatività un minimo di vita per la stessa sopravvivenza di tutti quanti però credo che sarà presto saranno prese delle ulteriori decisioni siamo in prossimità di questa fatidica data del dpcm che dovrà uscire il governo adotterà le sue misure sulla base anche delle valutazioni che farà il comitato tecnico scientifico quindi la decisione è frutto di una valutazione tecnica di una valutazione politica sempre tenendo conto di quelle che è l'esigenza di garantire misure proporzionate adeguate all'esigenza e alla problematica quindi io credo che si faranno tutte le riflessioni da qui a qualche giorno e saranno prese le decisioni più opportune buonasera buon tornato ovviamente anche da parte mia Angelo Zaccone Teodosi per Key for Bits articolo 21 e riformista in realtà sono due domande molto molto brevi ma una si collega a quella del collega nel senso che non soltanto i politici ma anche oggi avrà letto c'è un appello di centinaia di accademici di varie discipline i quali sostengono che è indispensabile al di là di tenere sotto controllo l'epidemia dal punto di vista medico attivare una procedura di riapertura a macchia di leopardo graduale ma comunque una riapertura attivando procedure di tamponi o teste di massa e attraverso questi test sierologici di cui questo volevo anche capire se lei o comunque il gruppo che lei in qualche modo rappresenta di intelligenze e di decision maker pensa che la utilizzazione dei tamponi o dei test di massa possa essere utile però questa è la premessa della domanda io vorrei avere conferma in maniera definitiva che le statistiche prodotte dalla protezione civile non prendono in considerazione i cittadini che sono verosimilmente contagiati e che restano a casa e i cittadini che sono morti con il covid 19 nelle loro abitazioni quando sarà possibile acquisire queste informazioni che si ha ragione di ritenere essere non meno importanti di quelle rilasciate dagli ospedali per comprendere l'evoluzione dell'epidemia cito un collega Marco Dotti sul sito web del mensile vita del terzo settore che due giorni fa dichiarava ovviamente preoccupato vengono snocciolati i numeri vengono lanciati appelli con un patriottismo fuori luogo ma sono storie e numeri sbagliati fa un esempio concreto in un paesino in provincia di Brescia Coccaglio dove si registrava una media di 75 morti l'anno i decessi dal primo marzo ad oggi sono 36 24 dei quali in ospiti di RSA ma i casi ufficiali che risultano nelle statistiche per coronavirus sono soltanto 5 qual è la vera verità? grazie allora il tema dei numeri che noi diamo sono i numeri che noi registriamo e che i colleghi della regione ci comunicano abbiamo anche sempre detto che riguarda il numero dei deceduti le analisi le fanno l'Istituto Superiore della Sanità quindi su questo potrete avere maggiori delucidazioni nel punto dell'Istituto Superiore di Sanità quindi anche con riferimento alle persone che sono a casa e sono positive il dato è quello censito e disponibile alla regione e alle direzioni generali di prevenzione sanitaria quindi noi ci rimettiamo a quelli sul resto io non non so dire perché e non voglio riaprire una polemica o altre cose può esserci una persona sintomatica e passare indenne al virus senza accorgersene però queste sono delle eccezioni sulle quali ovviamente anche la comunità scientifica si interroga fa le sue valutazioni quindi i dati potrete sicuramente chiedergli all'Istituto Superiore della Sanità con un'ultima chiosa che in questo caso la certezza non ce l'ha neanche l'Istituto Superiore della Sanità a mio giudizio Buonasera bentornato di Simone Rai2 Petroglio l'OMS ha detto che l'isolamento va bene ma adesso bisogna attaccare il virus ha detto bisogna fare più test per isolare le persone contagiose per isolare i focolai più virulenti la domanda è c'è modo di sapere quanti test vengono fatti ogni giorno in Italia e alla luce di queste considerazioni dell'OMS avete intenzione di mettere in atto politiche più aggressive cioè fare più test tamponi di massa e soprattutto contact tracing grazie allora per quanto riguarda i test noi siamo arrivati oggi a 429 526 tamponi voi avete le tabelle giorno per giorno credo che anche il numero dei tamponi ci siano e quindi basta vedere qual è l'incremento rispetto a ieri è l'8% dei tamponi in più questo è il dato che io ho qui i numeri vi ho detto basta prendere la tabella di ieri e vederlo per quanto riguarda la decisione e la strategia di analisi torno a ripetere io mi fermo a quelle che sono le indicazioni che aveva dato e che ancora oggi sono valide per noi dell'istituto superiore di sanità poi su questo tema la prevenzione sanitaria è una materia di competenza del ministero della salute quindi potrà il ministero della salute dare informazioni e cambiare se del caso anche sulla base della valutazione tecnico-scientifica della comitato che opera in seno all'emergenza cambiare strategia secondo lei non sarebbero utili politiche più aggressive secondo me le politiche che stiamo adottando sono politiche che sono coerenti con le esigenze e in linea con l'esigenza di garantire la gestione dell'azione di contrasto al virus però torno a ripetere non è una mia competenza e sulla quale ovviamente non posso rispondere buonasera bentornato e Giorgia Sodaro a DN Kronos e in queste ore registriamo diciamo le prime tensioni di persone che sono in difficoltà economica e abbiamo visto insomma problematiche per l'acquisto insomma di generi alimentari qualche piccolo comune ha già avviato iniziative come consegna di pacchi alimentari mi chiedevo se la situazione dovesse degenerare o aggravarsi se la protezione civile che è già impegnata su molti fronti anche da questo punto di vista potrebbe intervenire e dare un supporto per la consegna di pacchi o insomma mappare coordinare insomma un po' questi interventi grazie sicuramente la protezione civile è a disposizione con tutte le proprie strutture e credo che questo tema è un tema all'attenzione del governo presto avrete anche delle notizie su come risolvere questa questione quindi noi siamo pronti a fare la nostra parte come in ogni occasione e la nostra forza è il volontariato le strutture di protezione civile a livello territoriale sono già mobilitate già vengono impiegati i nostri volontari per andare a fare la spesa per chi non riesce ad andarci quindi saremo pronti anche a distribuire pacchi alimentari o quello che serve nelle ipotesi di necessità luca la viola dell'agenzia ANSA commissario ci sono ancora molte lamentare da parte delle regioni sulla consegna dei materiali sanitari non è solo difficile reperirli sul mercato internazionale in particolare i ventilatori ma a quanto pare ci vuole ancora molto tempo perché arrivino volevo chiederle qual è la situazione quando pensa che potremo essere a regime qual è il problema e se stiamo scontando in particolare per i ventilatori anche un ritardo nella fase iniziale dell'emergenza rispetto alle indicazioni che arrivavano sull'epidemia dalla Cina se ci siamo mossi tardi allora per quanto riguarda i materiali ieri c'è stato qui il commissario Arcuri lui farà anche lui dei punti informativi quindi su queste domande preferisco che risponda lui senza esimermi dal dare una risposta alla domanda di questa sera c'è stato un tema di difficoltà nel reperire questi oggetti questi prodotti perché nel mondo si è aperta la corsa all'accaparramento di questi prodotti quindi noi abbiamo fatto noi siamo partiti quando c'è stato l'esigenza e quando è stata prefigurata una attività di potenziamento delle strutture quindi la protezione civile nazionale si è mossa tempestivamente se vuole sapere questa è la mia opinione e la mia anche convinzione e certezza il tema è stato quello di scondi di dover mettere in conto una produzione nazionale inesistente ieri sera ha ricordato il commissario che l'unica impresa che produce ventilatori in Italia è stata ingaggiata dalla protezione civile ha garantito una fornitura di 125 ventilatori a settimana è stata potenziata dallo Stato e adesso ne fornirà più di 350 a settimana quindi siamo intervenuti ed è intervenuto anche il commissario Arcuri che voglio ringraziare per quello che ha fatto per potenziare la capacità di risposta in questo settore allora ci fermiamo qui buonasera a tutti e a domani allora questa la conferenza stampa del capo della protezione civile Borrelli rivediamo se ci aiuta anche la grafica lo mettiamo ma insomma quelli che sono i numeri perché se c'è un dato che colpisce ed è una soglia psicologica ma in realtà inevitabile perché con il numero dei deceduti ieri stavamo vicino ai 10.000 oggi quella soglia dicevo negativa che mette paura terribile è stata superata inevitabilmente però c'è un dato che oggi dobbiamo mettere assolutamente in evidenza e cioè quello del totale dei guariti siamo passati a 12.384 e cioè in una sola giornata bisogna segnalare 1434 persone che sono risultate finalmente negative al coronavirus che vuol dire che rispetto a ieri vediamo il dato di ieri vi dico ora poi se arriviamo anche con la grafica ci capiamo di più ma insomma ieri c'erano 589 guariti oggi siamo a 1434 evidentemente più del doppio delle persone permetteteci diciamo così di sottolineare questo dato che è un'evidenza è un fatto ma che è uno di quei segnali che attendevamo da giorni insomma non dal paziente 1 ma quando sono iniziati a salire quei numeri c'era stato soltanto all'inizio esattamente due settimane fa il sabato di due settimane fa un'inversione c'era stato un dato positivo che ci aveva illuso in una fase iniziale della diffusione del coronavirus quel sabato in realtà poi come sappiamo tutti i giorni che ci hanno portato fino ad oggi ci hanno detto che c'è stata una crescita esponenziale oggi oggi dobbiamo dire che questa crescita non è più esponenziale ci sono dei segnali positivi ce li ha raccontati fino adesso il capo della protezione civile Borrelli che poi ci ha raccontato anche un po' dell'impegno velocemente facciamo un riassunto innanzitutto rispetto a un'altra questione importante e cioè è stato chiesto a Borrelli a proposito del 3 aprile la chiusura per ora lo stato d'emergenza il blocco come è stata chiamata zona rossa insomma quel fermo di tutte le persone fino al 3 aprile e Borrelli ha risposto come d'altro canto non poteva non fare dicendo che questa decisione compete al governo che è in costante contatto con il comitato tecnico scientifico e sulle indicazioni del comitato tecnico scientifico evidentemente verrà decisa l'eventuale proroga sapete pure che insomma già circola l'ipotesi di almeno un prolungamento di due settimane ma qui stiamo nel campo appunto delle valutazioni quel che è certo è che lo deciderà il governo insieme dopo aver consultato il comitato tecnico scientifico cos'altro ha detto Borrelli di cose importanti innanzitutto ha voluto sottolineare questa collaborazione che è arrivata da quel paese che come sappiamo la Germania in questa fase per quanto riguarda l'aspetto economico di come affrontare l'emergenza coronavirus viene considerata è di fatto l'ostacolo al processo rispetto a una condivisione da parte di tutta l'Unione dell'emergenza e quindi di un intervento complessivo da parte di tutti i paesi dell'Unione vi dicevo Borrelli ha voluto sottolineare la disponibilità della Germania in particolare ha dato alcuni numeri su le persone in rianimazione in terapia intensiva che sono state spostate in Germania in tutto 12 pazienti positivi dopodiché Borrelli ci ha anche raccontato della come possiamo dire senza tornare sugli stereotipi ma insomma la disponibilità ad affrontare le fasi difficili da parte del del popolo italiano raccontando che sta in questo caso sì in maniera esponenziale salendo il numero dei volontari che ad oggi stanno operando nella protezione civile ci ha dato il numero di 11.636 volontari così come tanti tantissimi tantissime persone e ringraziamo anche loro e cioè chi ha dato la disponibilità a andare nelle regioni più colpite lo sappiamo in particolare Lombardia Emilia Romagna Veneto hanno risposto sì alla domanda per nuovi infermieri oltre 7 mila domande oltre 7 mila risposte sono arrivate di disponibilità ancora su quello che ci ha detto Borrelli su quei dati che insomma dicevo ci fanno capire quanto è importante condividere e partecipare Borrelli ha raccontato che fino ad oggi è arrivata una cifra altissima tra l'altro lo ricordiamo anche la 7 Corriere da Sera Gazzetta dello Sport sta raccogliendo fondi ma insomma Borrelli e potete andando sui siti e tutti i numeri che avete partecipare alla raccolta fondi ma certo è importante anche la cifra che sta raccogliendo la protezione civile ci ha raccontato che sono stati oltre 61 milioni di euro raccolti fino adesso poi più o meno ci ha detto come sono stati spesi 7 milioni in mascherine poi sono stati comprati 165 ventilatori e sapete quanto sono importanti per chi si trova in terapia intensiva allora sì ecco finalmente così riuscite a capire anche un pochino meglio quei numeri che io vi davo con un riferimento grafico a proposito della situazione della diffusione del coronavirus ma anche come vi dicevo del dato fondamentale importantissimo che arriva oggi dei guariti Borrelli lo vediamo tra poco Borrelli finisco insomma questo riassunto l'altra questione che alla quale ha risposto e cioè su le scelte di mantenere le persone in casa lui ha detto questa è una risposta che può arrivare dall'istituto superiore di sanità dai tecnici io soltanto devo dire che questa misura per ora per quelle zone dove è stata adottata anche inizialmente in maniera drastica sta dando questa misura dei risultati e questo lo sottolineiamo perché perché anche oggi lo sentirete nel telegiornale alle 20 nel dibattito politico ma non solo insomma c'è la questione di aver fermato di fatto il paese la produzione del paese di aver invitato e confermato alle famiglie di rimanere a casa e questo e questo lo dicevamo insomma nel dibattito politico sta alimentando posizioni diverse inevitabilmente con con valutazioni più o meno forti da una parte e dall'altra ma quindi con un'analisi se e quanto dovrà durare se non è adesso il caso di iniziare già a valutare come tra virgolette riaprire il paese pensando naturalmente alle attività produttive ma anche alla scuola e agli studenti una diciamo discussione politica di cui vi daremo conto l'altra cosa Borrelli ci ha detto quel passaggio dicevo la disponibilità della Germania notizia che non arriva da parte del capo della protezione civile ma è una dichiarazione in realtà della Presidente della Commissione poco fa della Presidente della Commissione Europea von der Leyen era considerata un po' in quel fronte falchi colombe tra chi è più aperto rispetto alle richieste dei paesi più in difficoltà la von der Leyen in realtà poco fa era considerata tra i sostenitori dei paesi in difficoltà che avanzano una richiesta di mutualità di condivisione delle difficoltà la von der Leyen poco fa ha detto che i Corona Bond sono uno slogan e per ora non ci stiamo assolutamente lavorando vi devo dare conto tra le notizie che stanno uscendo in questi minuti anche di un allarme ora senza creare allarmi esagerati ma insomma si è saputo che c'è c'è stato un malore negli stabilimenti di Taranto di Arcelor Mittal la persona che non sappiamo si è sentita male febbre ma ancora non è ufficiale il suo stato però insomma l'azienda ha fatto sapere che ha immediatamente sanificato l'edificio dove si trovava quella persona e questo ci riporta un po' a quella discussione su le possibilità di come gestire l'emergenza se procedere con la chiusura totale o quasi che è stata scelta dall'Italia dal governo italiano o se iniziare a valutare da qui a una settimana a 15 giorni un cambiamento di direzione vi abbiamo fatto vedere anche e anche qui vi do un veloce riassunto l'intervento dell'assessore alla salute della Lombardia Gallera che ci ha raccontato anche e soprattutto dei tamponi che stanno facendo ha confermato che anche aziende private hanno garantito assistenza e faranno tamponi Gallera che ci ha illustrato anche i dati della Lombardia ci torniamo anche perché in questo caso sappiamo quanto è importante che arrivino segnali che vanno in un certo senso che vada in un certo senso proprio da quella regione e come vi dicevo in apertura di questo speciale ormai quasi 50 minuti fa 45 minuti fa cala calano si inverte leggermente quella linea tragica poi ogni volta noi stiamo qui con i numeri e lo ricordiamo ogni volta lo sapete noi facciamo una sintesi per cercare di raccontare quello che sta succedendo ma abbiamo ben consapevole quello che c'è dietro questi numeri le tragedie delle famiglie delle persone di chi non può partecipare né all'assistenza ai propri cari e nemmeno nella fase più difficile però insomma i numeri che arrivano dalla Lombardia ci dicono che nella città metropolitana Milano ieri ci sono state meno vittime un numero importante in diminuzione di vittime rispetto al giorno precedente così come a Bergamo così come a Lodi e questo è importante così come è importante un altro segnale che arriva da un'altra regione l'Emilia Romagna anzi dalla Romagna perché perché lì il sindaco aveva deciso un po' di tempo fa tra i primi di introdurre misure drastiche perché sappiamo l'importanza di Rimini dal punto di vista turistico del commercio e quindi il sindaco si era accorto che bisognava dare una stretta ecco la notizia che arriva ad oggi da Rimini è che anche lì c'è un'inversione importante e sono davvero stanno diminuendo in modo evidente il numero dei contagiati e delle vittime ma allora vediamo il quadro così facciamo un riassunto e poi e poi andiamo verso la fase finale di questo speciale questi sono numeri se riuscite ecco a leggere in fondo alla pagina e un po' c'è il riassunto i casi totali è proprio la voce finale giù in basso sottolineato evidenziato in giallo capisco che ma poi dopo nel telegiornale cercheremo di fare una grafica migliore è così leggete meglio vedete che siamo arrivati a un numero veramente importante del totale dei casi 92.472 e come vi dicevo aumentano in modo progressivo ma non ma minore per farvi capire oggi sono 70.065 i casi positivi sono più 3.651 ieri erano 4.492 cioè ieri erano quasi 4.500 oggi siamo a evidentemente quasi mille di meno insomma sono numeri che ripeto ancora una volta ci fanno ben sperare così come l'altro dato anche se c'è quel 10.000 che ci fa veramente venire non si può quasi esprimere il dolore che provoca quel numero di 10.000 vittime ma l'altro numero importante è quello dei guariti dicevo 12.384 guariti eccolo qua allora in questa grafica lo vedete nella prima linea 28 marzo casi positivi 70.000 vittime 10.000 ma è quel guariti guardate lì in fondo sulla destra guariti 12.384 perché insisto perché vi dico che quello è il dato oggi che ci deve dare quel segnale di speranza ci dobbiamo un po' aggrappare a quel dato perché sono 1.434 in più rispetto a ieri cioè sono più del doppio dei guariti di ieri ora noi forse enfatizziamo forse esageriamo questo dato però insomma è quello che ci raccontano oggi i numeri è quello che ci dà quel segnale di speranza allora io adesso chiedo alla regia va bene allora noi ci fermiamo adesso e se non ci sono altri appuntamenti improvvisi vi do appuntamento tra io tra poco più di un'ora per ricapitolare quello che abbiamo sentito la conferenza stampa del capo della protezione civile Borrelli ma anche sentire abbiamo visto un pezzettino della conferenza stampa del governatore dello stato di New York Andrew Cuomo abbiamo sentito un pezzettino della conferenza stampa dell'assessore alla salute Gallera insomma il riassunto della giornata e le altre notizie tra poco più di un'ora anzi a questo punto tra un'ora nel telegiornale delle 20 ci rivediamo tra un po' grazie a tutti grazie a tutti